Un famoso combattimento che vi voglio dire è stato quando è venuta la banda del capitano Ferrari che aveva ucciso Jim Bevilacqua, era venuto verso Bardinetto, l'abbiamo attaccato nei pressi della Segre, in località Braia. L'abbiamo attaccato, sono rifugiati in una segheria, sono entrati là dentro, è iniziato un combattimento che non vi dico. Io mi ricordo che ero vicino a un mortaista, quando avevamo fatto i lanci qui eravamo già nel marzo del 45 e ci avevano mandato un mortaio di quelli italiani, un 45. E combinazione con noi c'era quei San Marco che erano stati in Germania, c'era un mortaista, era di Fontanellice bolognese, bravo ragazzo, era mortaista nell'esercito quindi era pratico. E quando abbiamo iniziato il combattimento mi sono trovato vicino e dico dai Stella fa vedere chi sei, punta quel pezzo di tubo, era quasi dritto. Ci dico ma sei sicuro di puntarlo bene? Qui ci viene in testa il proiettile. Mi fa guarda mo, era sì bolognese di Emiliano. Il primo colpo avrà picchiato nemmeno a 5 o 6 metri dalla segheria. Dopo qualche colpo si sono levati delle fiamme che erano una decina di metri alti. Era venuto notte e ricordo che vicino a me c'era l'attitante, anche lui lavorava in quella segheria che suo cugino era proprietario. Mi diceva, digli che non sparino nelle finestre che mi spaccano i vetri. Una battuta che dopo la guerra quando mi vedeva mi diceva, non sapeva i vetri, mi diceva. C'è rimasto i quattro muri. Ma lo sai cosa è successo? Che il combattimento si protraeva per le lunghe, c'eravamo due squadre, le squadre erano 24 persone. Cosa è successo? Era già notte, ci pregustavamo già la vittoria e la avevamo circondato. Da Calizzano arriva una colonna di tedeschi. avevano cominciato a sparare a Calizzano, a tre chilometri da dove erano. Sparavano, vedevi delle nuvole di proiettili traccianti, no? Perché avevano le cose con il fosforo dietro. Quando sono arrivati lì, noi avevamo piazzato una squadra proprio dalla parte del Calizzano per proteggerci eventuali cose. Sì, hanno sparato alcune rafica, ma era notte. Sai cosa vuol dire sparare e vedere la fiamma che te spari? Sei un facile bersaglio, eh. Siamo investiti da una... una gragnola di colpi che non ve l'immaginate nemmeno. C'è chi ha contato dai 14 e qualcuno diceva 17 camion carichi di tedeschi. Guarda, ci siamo ritirati, ma... stisciavamo per terra. E va già bene che ci siamo allargati, invece di andare in salita dove sparavano in modo brutale. Io mi ricordo che mentre stisciavo per terra mi son bruciato la mano. Avevo toccato la canna dello Sten, era ancora calda. Mi son bruciato la mano persino. Ci siamo ritirati e è iniziato... hanno conquistato... 23 giorni ci sono stati i tedeschi. Tanto è vero che quando si preparava la liberazione, il primo di aprile ci avevano ordinato tutta la terza brigata di venire qui alla quarta brigata, trasferirsi lì. Abbiamo fatto una vita per passare in mezzo ai tedeschi. Nel frattempo eravamo andati sulle colle di Garessio. Ci eravamo trasferiti lì. E lo sai, eravamo a circa tre quarti d'ora di cammino dai tedeschi. Mi ricordo che sul passo del San Bernardo c'era un tratto che dominava il mare nella piana di Albenga. preparavano le piazzone per i cannoni di alta gittata, di lunga gittata perché prevedevano, allora si diceva così, prevedevano lo sbarco degli alleati proprio nella piana di Albenga. e quindi lavoravano in quel tratto lì di mare che si dominava una bella pezza del mare per sparare le navi eventuali, no? E' stato fatto prigioniero uno della SS che era l'attendente del generale di Garessio. Buono partizano, SS scelta eh! Quando l'hai preso una nostra pattuglia l'ha fatto prigioniero che era, si vede che giravano mezzo alle cascine, forse aveva due o tre uova a mano addirittura quando l'hanno preso. eravamo buoni partigiani quando li facevi prigionieri, poi deve essere morto di polmonite fulminate, qualcosa di sì.